Ci sono cose che non si possono raccontare, si possono solo provare, sentire, in silenzio, e battono dentro di te, fuori da te, allo stesso ritmo, il tempo si dilata, la natura ritrova il suo spazio in te, e lo spazio ti dà spazio per essere libero. Grazie a tutti.